Emanuele Filoni vi dà il benvenuto a questo nuovo video nel quale tratteremo in maniera molto sintetica quelli che sono stati i risultati dell'andata, delle ottavi finali di Champions League femminile. Allora, andiamo subito a uno dei match più importanti, Chelsea contro la Liga Madrid. Peraltro il ritorno si giocherà al Beranteo di Monza, molto interessante questa cosa, per problemi ovviamente di regare il Covid, questi purtroppo brutti problemi. All'andata è finita 2-0, il Chelsea è stato praticamente per quasi tutta la partita in dieci, ha giocato in dieci con l'espulsione di Sophie Ingol, espulsionetta da ultimo uomo, ultima donna se preferite. Però nonostante questo il Chelsea ha saputo ribattare il tutto, prima con il calcio di rigore di Mielde e poi con i gol, sempre diciamo qualche minuto dopo, comunque sempre nel primo tempo, di Kirby. 2-0 per il Chelsea, quindi una buona partita da parte del Chelsea, anzi un'ottima partita da parte del Chelsea perché in dieci l'Atletico Madrid però sbaglia due calci di rigore, perché dopo l'espulsione di Sophie Ingol c'era appunto il rigore, c'è stato il rigore calciato da Adelina Castiglianos, ma Berger strepitosa e sarà strepitosa anche sul secondo calcio di rigore calciato invece da Van Dogen. Che dire, Berger è il migliore in campo assolutamente, perché un partita che ti parla due calci di rigore è come se tu fai due gol forse anche di più, forse anche meglio. Diciamo che il Chelsea è una squadra fortissima, come si dice, fortissimi, diciamo così. Il Chelsea per me arriverà in finale, poi vediamo un po' come stanno messe, perché ora non so bene quello schema, no? Sarebbe bello però vedere Chelsea lì o nelle finali, sarebbe molto molto bello. Questo Chelsea, secondo me a questo punto, non dico che ha la qualificazione in pugno, però, perché comunque il Brentia magari all'Atletico Madrid fa 2-0, quindi si va ai supplementari o fa 3-0. Secondo me il Chelsea non è una squadra che perde 3-0, quindi a questo punto non dico che c'è in pugno il risultato, ma poco ci manca, comunque è in grande vantaggio. Poi abbiamo avuto la sconfitta in casa del Cazicurt contro il Bayern Monaco per 6-1, il gol di Kuntanansi, non so come si pronuncia sinceramente, poi Bernstein da parte del Bayern Monaco, c'è stata la doppietta di Linda Dalman, Glass, William Snotter, Bernstein e Lia Schuller, per appunto la squadra tedesca, quindi che vince fuori casa 6-1, ormai qualificazione a portata di mano per le tedesche. Lione 2, Brown B0, il gol di Nikita Paris e di Malar al 93, malar sempre importante come lo è stato contro la Juventus, lo è anche contro il Bromby perché 2-0 in casa, è vero che il Bromby andrà in casa e dovrà fare due gol al minimo, non dovrà subirne, quindi diciamo anche qui una qualificazione abbastanza netta del Lione. Il PSG contro lo Spartaparaga giocherà il 9 marzo, martedì alle 16, City-Fiorentina finisce tra 0 purtroppo per Le Viola, i primi due gol al secondo e al quarto minuto di Amp e Dwight, e poi Sam Mewis a incoronare una prestazione sicuramente molto positiva del City, contro una Fiorentina che ha fatto 0 tiri in porta e un tiro fuori da grande posizione, da buonissima posizione da parte di Tokersen. Una cosa che vorrei dire alla Fiorentina Cicotta è, se Tokersen è una velocista e il City abbiamo visto un paio di volte soffrire questa velocità di Tokersen, io Tokersen l'avrei avvicinata di più alla porta sinceramente, invece io la vedo sempre molto lontana, però la Fiorentina non ha frecce alla prova Faretra, si vede una squadra senza anima perché è una squadra senza frecce, senza munizioni, senza possibilità di giocare in un certo modo, perché se gioca in un certo modo non va bene, se gioca in un altro non va bene perché non ha tante frecce alla prova Faretra, quindi io direi a Cicotta di inventarsi qualcos'altro, è chiaro che i giocatrici non sono, Bagli è giovanissima, Zanola è giovanissima, altre non si sono ancora mai ambientate benissimo, ci sono state parecchie gestioni come quella di Tatiana Bonetti, a iniziato l'anno di Ale Aguagni e di Liria Mauro che sono state solamente importanti, detto questo però la Fiorentina è la Fiorentina, dovrebbe fare molto di più, colpa dell'allenatore forse ci può stare, però al tempo stesso è chiaro che la società è un po' responsabile del tutto, perché poi le giocatrici le prende la società, e quindi possiamo parlare dell'allenatore che certamente non sta facendo bene, quello sicuro, possiamo parlare delle calciatrici, ma poi ragazzi è la società che c'è dietro, se la società prende le giocatrici di un certo talento, di un certo calibro, le cose migliorano, l'Isadevanna l'anno scorso è una giocatrice che in queste partite avrebbe fatto comodissimo, perché ti dà una profondità importante, è bravissima nell'uno contro uno, alla Fiorentina manca, e infatti l'unica che è andata vicino al gol è stata proprio Togherson, bravissima nell'uno contro uno, abbiamo visto con Lione, la Juventus ha delle giocatrici bravi nell'uno contro uno, però poi si vede quel limite, in Lione è una squadra molto più esperta, fortissima, ma nell'uno contro uno ha giocatrici molto più forti, e si è vista, si è vista questa differenza importantissima, avere giocatrici che nell'uno contro uno sono forti, ti fa fare la differenza, ti permette di fare quel salto di qualità importante, chiaro che il calcio è un gioco di squadra, come dico sempre, ma è chiaro che avere delle giocatrici che ti risolvono la partita, anche nell'uno contro uno, anche con la giocata magica, ti permette di avere qualcosa in più rispetto alle altre squadre, e City, Chelsea, Lione, e Barcellona che adesso vedremo, sono quattro tra le squadre più forti del mondo, o comunque d'Europa, quindi City 3, Fiorentina 0, Barcellona 4, Fortuny Unoring 0, il tripletta di Jennifer Hermoso, e poi il quarto gol, segnato da Alexia Putejas, che ci mette sempre lo zampino, nonostante sia una centrompista ragazzi, è una giocatrice pazzesca, che io in squadra, la vorrei sempre, sempre, ma anche Hermoso ragazzi, ma che giocatrice è, anche Jennifer Hermoso, che tecnica, ma di testa, ha fatto due gol, o tre gol di testa, non vorrei, no, forse due gol di testa, non vorrei errare, ma comunque è fortissima di testa, con il piede, non è velocissima, ma è una giocatrice che, è al posto della velocità, magari ha la tecnica, questo fa la differenza, Wolfsburg, Lillstrom, 2 a 0, per le tedesche, con il gol di, doppietta di Alexandra Poppa, questa è un'altra, grande leader, veramente giocatrice, pazzesca, pazzesca, anche una nazionale, abbiamo visto, Rosengard 2, Polten 2, questo, è una qualificazione, che il Polten, aveva probabilmente in tasca, perché? Perché stava vincendo, con la doppietta, di Mateja Swer, e poi ci sono arrivati, i gol di Nilsson, di Karolinssegar, all'ultimo, quindi diciamo che, il Rosengard, tra virgolette, si è salvato, anche se al momento, è il Polten in vantaggio, perché i gol fuori di casa, valgono doppio, quindi dovesse venire 0 a 0, la partita di ritorno, il Polten supererebbe, la Rosengard, sarebbe un grandissimo risultato, diciamo che però, molte partite in questi ottavi, sono segnate, basta vedere il Barcellona, il City, che difficilmente la Fiorentina, fa tre gol e pareggia, il Lione, anche il Lione, anche se poi il Brombi, magari il golletto, trovo a fare, può riaprire un po' il tutto, però è il Lione, quindi, e anche, difficilmente anche l'Atletico, però vediamo un po', il Bayern Monaco, sicuramente 6-1, ha vinto fuori caso, quindi, è già, insomma, il Paris Saint-Germain, e Sparta-Praga, credo che il Paris Saint-Germain, possa vincere agevolmente, e quindi niente, diciamo che dai quarti in poi, che le partite diventeranno, un po' più difficili, da valutare, da pronosticare, con questo ragazzi, è tutto, l'appuntamento è alla prossima.